La Giunta Comunale di Vibonati ha approvato la delibera con la quale boccia ufficialmente il progetto del Comune di Spani per la protezione del litorale di Capitello e la costruzione del porticciolo. La delibera sarà inoltrata al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha chiesto ai comuni limitrofi a Ispani, Vibonati e Santa Marina le contradduzioni al progetto, contradduzioni da inoltrare entro l'11 novembre e le conclusioni degli amministratori vibonatesi basate su una relazione tecnica e che l'intervento progettato andrà ad aggravare il fenomeno erosivo fino a Sapri. Nel frattempo per il porticciolo e le opere da realizzare a tutela della spiaggia di Capitello e della sovrastante statale 18 si attendono i pareri della Regione Campania, della provincia di Salerno e della sovrintendenza. Opere dunque senza permessi ma già appaltati. Difatti il Comune ha già consegnato i lavori alla ditta che si è aggiudicata la gara. Un aspetto questo destinato a far rumore quando il braccio di ferro in corso contro il porticciolo di Capitello si farà ancora più rovente. Sarebbe opportuno un confronto tra le varie autorità competenti ma la politica anche in questo caso fa orecchie da mercante ed altronde la condivisione delle scelte comprensoriali è sempre stata e continua ad esserlo, cosa molto rara.